Certo l'allenatore non può essere soddisfatto di questa partita, ha avuto qualche occasione, la sua squadra, ma alla fine gli avversari sono stati nettamente superiori. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata Luca? Una vera disfatta per loro, avranno molto su cui riflettere nei prossimi giorni. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Al commento tecnico c'era Luca Marcheggiani, che ringrazio. Sono io che ringrazio te Fabio. Grazie a tutti.